Stare vicini mentre affondiamo, affonderemo, affonderemo. Ho poco da fare, posso soltanto sperare che non ci vada il Serie B. Sono un tifo per il Palermo. Tifoso del Napoli, io so. Il tifo in campo è essenziale per la squadra, per motivarla a fare di più. Se diciamo che il tifo c'è o non c'è, è la stessa cosa. Più di andare allo stadio e tifare per la squadra, penso che non si possa fare. I tifosi devono sostenere la squadra dal primo all'ultimo minuto. Criticare va bene, però bisogna criticare sempre dopo il novantesimo. Un primo passo potrebbe essere la partita di domani, biglietti in curva a 5 euro. Mi aspetto una presenza massiccia da parte dei tifosi perché è in questi momenti che bisogna stare vicino alla squadra. Non soltanto quando si vince, insomma, salire sul carro dei vincitori è sempre più facile. Il problema è restarci o rimanere aggrappato quando le cose vanno male. La classica processione verso il santuario di Santa Rosalia. Possiamo fare soltanto questo, affidarci a qualche santo o magari affidarci al santo nascosto, ovvero Pietro Lomonaco, che secondo me sta lavorando nell'ombra per risollevare le sorti di questa squadra. Insomma, c'è ancora un girone, le possibilità ci sono. Il classico, andare a Monte Pellegrino. Io ho anche giocato Bollezza Giaverso perché ho sempre perdere Palermo, questo, meglio di Catania, Catania più buono.